ciao benvenuti a cazzeggio e veniamo poi all' energy system neolite android dual sim come come tutti è veramente un ottimo cellulare 5 megapixel di telecamera frontale con flash autofocus 2 megapixel una telecamerina frontale praticamente un piccolo iphone molto più moderno prezzo l'ho pagato 50 euro spese 55 euro spese di spedizione incluse c'è una cover posteriore molto gommosa e che protegge il cellulare e poi c'è un'altra coverina plastificata frontale da percicarci praticamente super per proteggere il visore quindi con 55 euro c'è un ottimo smartphone con cover e salva urti varia di siti e quindi io lo consiglio veramente perché come smartphone è completo calegnaia 14 marzo 2019 firmato di prova mare leggermente mosso e increspato vento ghiaccino non c'è un cane ovviamente a fare il bagno desto da 2 o o o o o o o o o Autore dei sorrisi